ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi farò felice qualcuno di voi molti di voi mi hanno detto perché non fai il video del sushi perché non fai il video del sushi lo faccio oggi anche se già ci sono due video su youtube e ancora non l'avete visto scendete giù e andate a vederlo ok allora ragazzi ci vediamo al sushi ma prima sigla è esatto allora ragazzi abbiamo appena ordinato il sushi ora appena arriva ve lo farò vedere che bondà ragazzi i miei preferiti guardate quanto salmone c'è qua dentro ragazzi a a a Grazie a tutti. Noi ci siamo già stati qui, si chiama Wasabi e ho fatto un video, quindi se volete vedere il locale com'è, basta che vedete il video che metterò in descrizione. Io continuo, ragazzi ho una fame pazzesca. Siamo in migliori colorata, guardate che bella. Adesso cazzamona. Guardate che fettona di salmone che c'è all'interno. È buonissimo. Questo è buonissimo. Adesso. Questo è quello con il gambero. Questo è il tonno al capace. Il salmone. Andiamo a mangiare tra poco. Abbiamo finito il primo tempo, adesso aspettiamo gli altri. Il resto, il secondo tempo dobbiamo fare. Finalmente il secondo tempo. Buonissimo. Buonissimo. È una spugna all'interno. Ed è buonissimo. C'è l'uovetto. Niente. Buonissimo. Salute. Salute. La Coca Cola ci vuole. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate. E se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.